Con il tempo sto imparando a controllarlo, a usarlo, spero solo che non sia tardi. Ovviamente sembrerebbe sapere cosa sta succedendo, il punto è che noi l'abbiamo sconfitta ma è stata presa, a quanto pare, dai veri cattivi di Cteste Choc. Quindi noi ci dirigiamo... Dove siete? Vieni qui! Ah già che questi hanno l'armatura, è vero. Mi ero dimenticato di questo... Dettaglio. Dovrei averlo ucciso con la macchina. Porca miseria, va bene. Facciamo le cose con un attimo di... Di dovuta calma. C'è un pezzo dell'esplosione, sì esatto. E tra l'altro... C'è anche uno di... Sti schifidi... Qua sopra. Ecco fatto. Oh che bello. Quindi la missione di oggi è... Bloccato. Ho preso informazioni sul vedano. Ho avuto tutti i risultati senza attento del posto, riuniti in bande, hanno preso il controllo del quartiere. Si fanno chiamare gli spazzini. Perfetto. Non so spiega perché indossano sacchi della spazzatura. Più che altro hanno delle armature, è quello che mi sorprende. Sarebbe un errore sottoguantarli. Già, è vero. Però finalmente siamo arrivati a sbloccare il tanto agognato nuovo potenziamento. Eccolo. Il potenziamento più utile di tutti. La planata. Oh che bello, santo cielo. So che magari è un potenziamento minore rispetto ad altri. Ma a livello di movimento, la planata è... Si. È fondamentale, veramente. Io tra l'altro non mi ricordavo che... Per planare... Non ho idea di dove devo andare. Ok, dovevamo andare a sinistra, non dritti. Tra l'altro, dicevo, io non mi ricordavo che per usare la planata dovessi tenere premuto... R1, ma... Mi ricordavo che dovevo tenere premuto la X. Probabilmente... È un ricordo indotto... Dal tempo che non gioco a questo gioco. Quindi? Ah, ok, scusami. Continuavo a colpirlo e non si distruggeva. Bravi, bravi. State in acqua. State nell'acqua delle fogne. Complimenti. Bell'idea del cazzo. Dai, l'avevo colpitissimo. È il gioco che non mi fa... Mi... Dove sono? No, dai! Si è rincoglionito il gioco! No, dai! Si è bloccato il gioco! Ma che cazzo è successo? Boh, vabbè, guarda. Dicevamo, bravi. Statevene in acqua. E crepate polgorati. Che è quello che vi meritate. Ecco fatto. A sto giro... Al primo colpo in testa subito. Ecco qua. Già ero preoccupato che avrei dovuto... Ricominciare la partita. Beccati questo in faccia. No! Beccatelo anche tu in faccia. Oh! È stato facile. Sei vivo? Beccati questo, allora. Dove nessun poliziotto riuscirà mai a trovarti. Quindi... Morirai distenti. E... Morirai qui nelle fogne. Come te lo meriti, tra l'altro. Nemici? Stranamente no. Però siamo in un piano alto. Esatto! Bravo, Cole! Porca miseria! Questo sì che è viaggiare con stile. Questo non è volare! È planare con stile! Santo cielo. E' certo! E secondo te siamo tutti fessi. Ecco fatto! C'è ancora qualcuno in acqua, vero? Sì, c'era l'amico simpaticone. Ma ce n'è ancora uno, ma non capisco se è lui o... Bo... E sì, mi dice che è ancora lui, credo. Bo... Vabbè, lasciamolo lì. Ecco qua. C'è ancora qualcuno? No, mi sa che siamo quasi arrivati. Siamo... Siamo quasi a destinazione. La planata è il potenziamento nettamente più figo rispetto a tutti gli altri. Fine. Dai, 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 dai. Bravo, Cole. Per un attimo, ti giuro, ho pensato non ce l'avresti fatta. Dobbiamo andare... Non ci arriverò mai! Ah, perché dovevo salire più in alto, che scemo. Ok, perfetto. Dicevamo, dobbiamo arrivare di là. Sono stato stupido io, Cole, scusami. Ecco fatto. Queste mini trappoline che se non sali più in alto, col cavolo che ci arrivi. Bravi, bravi. Questi erano i giochi... Che apprezzavamo di più. Però... Eccoci arrivati. Ma non era... Ah, no, è quello, ok. Dicevo, ma non è il trasformatore che devo ricaricare? Ecco fatto. Il dedalo ora... Si è fatta la luce. Eccola qua la luce. Missione completata. 500 punti assegnati. Ma... Vabbè, aspettiamo. Ti ricordi Dwight? Ho incontrato sua sorella ed è convinta che si sia cacciato nei guai. Vorrebbe che tu lo cercassi. Dwight? Non è quel tizio che ti ha rubato l'auto e poi è andato a sbattere? Dè! Già, un vero babbeo. Ma lo sai che è da un po' che faccio il filo a sua sorella? Se... Andassi a cercarlo, mi faresti... Un favore. Eh, certo! Non pensi che se trovo Dwight, lei ti darà una ricompensa. Da qui io non posso fare nulla. Ma cosa fa la signora? Cosa fa? Signora! Cosa fa? L'ultima volta che l'ho visto, Dwight bazzicava il chambicic. Cosa ha fatto? Forse lavorava da quelle parti. Potresti iniziare da lì. Va bene, zi, che comunque vado a cercarti il fratello della gnagna che ti fa il filo. Mamma mia. Cole, ci sei? No. Le cose si mettono male. La gente muore e io non posso fare nulla. Che novità. Che novità. Sono passato nel tunnel ed è a pezzi. Idem per lo Stone Canal Drawbridge. Ricordi un certo Roger Miller alla laurea di Eni? È un ingegnere civile che ha lavorato con mio padre. Se qualcuno può riparare il ponte, quello è lui. Vive al Valentine Park. Proverò a cercarlo. Va bene, in sostanza. Vai a cercare un tizio che forse potrebbe riparare un ponte intero da solo. Sai cosa? Ste granate non sono abbastanza potenti. Credo che in... In Infamous 2 le abbiano nerfate... Cioè le abbiano potenziate di più. Perché qua... Una granata del genere fa un cavolo di danno. E io intanto sto ammazzando tutti gli spazzini. Giusto per farmi qualche punto extra. Sono tutti morti? Eh, mi sa di sì. No, ancora qualcuno c'è. Quindi... Beccati le catene della giustizia. Ecco fatto. Tra l'altro, ecco lì. Un altro camioncino. Esploso. Niente più torrette. 25 punti nelle nostre tascocce. Ok, quindi abbiamo due missioni principali. Abbiamo la richiesta di Zeke. E un vecchio amico. Io aiuterei Zeke. Perché sinceramente... Oh, chiamatemi pure una brutta persona. Però Trish è nel torto. Nonostante... Sì, l'ho già detto. Ha perso la sorella. È brutto. Tutto quello che volete. Però, l'ho già ripetuto più di una volta. Non è l'unica che ha perso qualcuno. Ma soprattutto dà la colpa a noi. Cosa che effettivamente in parte ha anche ragione. Ed è vero. Ma non è colpa nostra. Siamo vittime tanto quanto tutti gli altri. Noi. Della raggiosfera e dell'esplosione in sé. Quindi... Adesso fa la brava perché stiamo aiutando. Perché se fossimo stati di karma cattivi... Con il cazzo che farebbe tutta la gentilina. Io intanto qua sto... Sto macinando punti su punti. Quanto siamo? 4000. Eh, voglia. Qualcosa... Lo tiriamo fuori. Tra l'altro lì c'è il furgoncino. Che tra poco... Pum! Scomparso. Addio alla torretta. Ecco fatto. Vieni qua tu. Sono punti karma ovviamente. Non li lasciamo... Certo andare via questi. La cosa buona di questo gioco è che i colpi normali... Questi qua... Possiamo spammare. Per fortuna... Non consumano... Munizioni. Ecco fatto. Oh, che bello. Via. Tutti arrestati. Tutti quelli che non sono morti. Diventerò l'eroe di questo posto. Ok. Eccoci arrivati. Però prima di guardare la missione... Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Potremmo aumentare la granata. I danni provocati. Si potrebbe fare effettivamente. I danni fanno schifo. Ok. Abbiamo punti a sufficienza per aumentarli entrambe. Ecco fatto. Granata ed elettrodrenaggio. Vai. Tu hai te morto, Zeke. Qualcuno l'ha ridotto male. Oh no. Dannazione. Sua sorella dara di matto quando glielo dirò. Se trovi i responsabili... Potrei giocarmi questa carta. Forse. Fratello, mi serve il tuo aiuto. Eh certo. Non hai davvero seri problemi, Zeke. Ma certo. Andiamo a indagare su un cadavere... Solo perché Zeke deve andare a scopare. Mi sembra giusto. Erano gli spazzini? Ah sì. Per la forma non sembravano. Ok. Il mio cugino ha fatto quella fine. Non avremmo dovuto metterlo in una bara aperta. Ma il vecchio Smitty ci teneva. La gente non faceva che vomitare o svenire. Oh no. Non mi sono ancora ripreso. Povero Smitty. E io intanto... Ma... Non sono cani. Sono ragni. Dove è andato? Eccolo. Ma mi continua a scomparire dalla vista. Diavolo sei lui. Mi piace quello che fai. Il modo in cui ripulisci questo posto. Che dovrebbero significare quei poster? Quali poster? Ah ok. Sto cercando di far sapere alla gente di te. Di ciò che stai facendo. Quale preferisci? Dato che il tipo li attaccherà comunque. Potrei almeno decidere come la gente dovrebbe... Eh esatto. Voglio che mi amino. Ok. O voglio che mi temano. Voglio il poster per essere amato ovviamente. Azione buona. Certo il poster quello cattivo comunque è figo. Mi piace quello. Bene. Ne stamperò altri. E comincerò ad appenderli in tutta la città. Bravo. Sic non ci crederà mai. Sì ok. Ma la missione... Ecco esatto. La parte principale. Quello ovvero di inseguire il fantasma verdolino. Ed eccoli qua. Ciao siamo ragni. Ma stanno scappando? Devo inseguirli. Boi ed è. Insegui il fantasma. Già che ci siamo però facciamo saltare in aria anche la torretta. Ecco fatto. Tu non scappare. Ti devo inseguire. Allora? Ancora no. Qui è pieno di cose a forma di granchio. Credo che gli arrabondi li costruiscano il ciclando Cialpame. Continua a cercare. Trova il sacco di immondizia che ha ucciso Dwight. Porca troia. Due bombe così di botto. I tizi kamikaze però non me li aspettavo. Si è fatto saltare in aria da solo? Un ragno appena esploso da solo? Va bene. Dio mio. Quanto casino è successo in pochi istanti. Aspetta un secondo fratello. Scendi. Bravo. Ancora. Ancora. Eh no. Call. Ho sbagliato. No. No no no. Ma scusami. Ti dovevo curare. È tutta colpa del ragnetto che mi ha distratto. Ecco fatto. Questo è morto? Eh sì. Signora sta bene? Signora? Ecco fatto. Ti rottami. Non passo. Ecco fatto. Ancora? Eh vabbè aspetta. Una cosa la vo- No! Eh vabbè. Andati? Distrutti? Ho tirato un calcio alla vittima che stavo cercando di curare. Ti prego scusami. Ecco fatto. Sei vivo? Ottimo. Anche te. Aspetta. Cos'è? Ah il signore dei ragni. Che c'ha un lanciarazzo ovviamente. Prima di te ti ho trovato bastardo. È andato? Zeke. Eeeh. Canto in acqua. Per inciso. Con questo è il tuo credito esaurito. Non sono qui per il tuo tormento. Niente da dire fratello. Mi sdebiterò. Sì proprio. Farai solo casino e lo sai Zeke. In ogni caso. Missione compiuta. Quindi signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito mi hai seguito. Surti a dirmi qualcosa. Sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.